lettura del menu disattivata premi grilletto sinistro per attivarla grazie a tutti 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 da tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ma restiamo grazie a tutti 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 non so grazie a tutti vedo qui grazie a tutti grazie a tutti e a tutti ci siamo grazie a tutti ci siamo quasi grazie a tutti grazie a tutti professore professore grazie a tutti che il nome di grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti sta 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 canto grazie a tutti in questo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti prego grazie a tutti ci stiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti professore grazie a tutti grazie a tutti vediamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti lumos grazie a tutti vediamo grazie a tutti 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 lumos ben fatto grazie a tutti attenzione proteico proteico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti che grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti lumos proteico grazie a tutti proteico 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 grazie a tutti proteico proteico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti proteico proteico grazie a tutti lumos grazie a tutti grazie a tutti proteico proteico grazie a tutti E' tutto pronto? Hai nascosto bene? Fin troppo. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica e io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà, Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì, e se abbiamo ragione, Charles, la strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza e quindi la responsabilità che ne deriva. abbiamo fatto il possibile. È questo che vedi? Il bagliore che li circondava? Sì, signore. Stupefacente. Posso vedere la magia? Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale, ma non ha potuto. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. e pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Noi… Sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma, signore, lei non dovrebbe trovarsi qui? Chi erano? Proprio come pensavo. Runrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io… Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata dodici erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei non… Non ho pazienza per i traditori. Ora… Dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh… Allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo. Io. E lei non ti riuscivo. Non ti riuscivo. E lei non ti riuscivo. E lei non ti riuscivo. Allora forse volte a te raggiungere il suo passato. Si non ti riuscivo, lei non ti riuscivo. Tosi lei non lo stesso di tava e non gli allo. Vuoi scopき dì? So come uscire! Professore! Va tutto bene? Sì, signore. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Ma dove siamo? Eh, non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui? Vieni, alla cerimonia di smistamento. Mi s Grazie a tutti. Grazie a tutti.